workout total body e corda faremo esercizi di tonificazione ed esercizi ad alta sollecitazione cardiovascolare buon allenamento iniziamo 30 secondi di salto con la corda salta sulle punte schiena dritta e spalle aperte salti bassi e massima coordinazione delle braccia addome contratto e spalle basse 5 4 3 2 1 ok recupera e posa la corda a terra 3 2 1 vai passi incrociata all'indietro porta le braccia in avanti per non perdere l'equilibrio continua 10 secondi 5 4 3 2 1 cambia incrocia braccia a gambe e doppio calcio fai bene l'esercizio e separa bene i movimenti ritmo e controllo 5 4 3 2 1 cambia affondi indietro alterna le gambe e mantieni l'addome contratto affondi controllati 5 4 3 2 1 ok recupera e prendi la corda 3 2 1 corda vai salti bassi e veloci schiena dritta e spalle aperte piccola rotazione del pulso e gomito fermo addome contratto e spalle basse 10 secondi 5 4 3 2 1 ok posa la corda e preparati per il push up 3 2 1 vai push up schiena dritta e braccia in linea con il petto salita veloce e discesa controllata 5 4 3 2 1 resta in posizione plank in corsa ginocchia al petto e simula la corsa dai resisti addome contratto e respira 5 4 3 2 1 ferma le gambe plank 20 secondi bacino basso bacino basso addome contratto e respira testa schiena e gambe sulla stessa linea 5 4 3 2 1 ok recupera e prendi la corda 3 2 1 vai salta schiena dritta e sguardo fischi in avanti le mani fanno un piccolo movimento di rotazione i salti sono leggeri e veloci ultimi 10 secondi 5 4 3 2 1 ok recupera e posa la corda 3 2 1 vai ginocchio destro al petto scendi e risali velocemente corpo leggermente in avanti e gamba d'appoggio leggermente veglata 5 4 3 2 1 cambia gamba o risali con la sinistra ginocchio sinistro su e addome contratto aiutati con le braccia per coordinare il movimento delle gambe 5 4 3 2 1 cambio ora squat e doppio calcio movimenti puliti calcio calcio squat quando scendi bacino arretrato e talloni ben appoggiati a terra 3 2 1 ok recupera 20 secondi ora ripetiamo tutto da capo aumentando i tempi a 30 secondi 5 4 3 2 1 riprendiamo 30 secondi di salto con la corda salta sulle punte schiena dritta e spalle aperte salti passi e massima coordinazione delle braccia addome contratto 5 4 3 2 1 ok recupera e passa la corda 3 2 1 vai passi incrociata all'indietro 30 secondi porta le braccia in avanti per non perdere l'equilibrio continua continua ritmo e controllo 5 4 3 2 1 cambia incrocio braccia gambe e doppio calcio massimo impegno fai bene l'esercizio e separa bene i due movimenti non andare troppo veloce 5 4 3 2 1 cambia 30 secondi di affondo indietro alterna le gambe e mantieni l'addome contratto affondi controllati scarichi il peso al centro del movimento 5 4 3 2 1 ok recupera e prendi la corda 3 2 1 corda salta i bassi e veloci 30 secondi piccola rotazione del polso e gomito fermo schiena dritta e spalle aperte addome contratto e spalle basse ultimi 10 secondi 5 4 3 2 1 a terra push up sono 30 secondi schiena dritta e braccia in linea con le spalle salita veloce e discesa controllata tieni duro fuori l'aria quando sali 5 4 3 2 1 resti in posizione plank in corsa ginocchio al petto e simula la corsa addome contratto e respira dai resisti 5 4 3 2 1 fermi in movimento posizione plank 30 secondi bacino basso addome contratto e respira testa schiena e gambe sulla stessa linea 5 4 3 2 1 ok recupera e prendi la corda 3 2 1 vai salta 30 secondi schiena dritta e sguardo qui in avanti le mani fanno un piccolo movimento di rotazione i salti sono leggeri e veloci ultimi 10 secondi 5 4 3 2 1 ok recupera e posa la corda a terra 3 2 1 via ginocchio destro a petto scendi e risali velocemente addome contratto corpo inclinato leggermente in avanti gamba di appoggio leggermente piegata 5 4 3 2 1 cambia gamba ora sali con la sinistra ginocchio sinistro su e addome contratto resisti mancano due esercizi a termine ultimi 10 secondi ultimi 10 secondi 5 4 3 2 1 doppio calcio e squat movimenti puliti calcio 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 calcio, majors squat calcio, quali stop menace calcio, calcio, squat Woo 3 2 2 2 2 Ok, recupera e prendi la corda. 3, 2, 1. Ultimo esercizio. Piccoli saltelli sul posto con la corda. Salti bassi e massima coordinazione. Cerca di aumentare la velocità. Spalle aperte. Piccola rotazione di polscia e avambraccio. Resisti. Ultimi 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Il tuo allenamento è terminato. Grazie. 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 Grazie.